Il mio primo ricordo azzurro è quando ho vestito la maglia in Nande 17 all'Europeo contro la Germania, era la seconda fase, un allenatore Rocca. L'emozione era tanta, i miei compagni mi avevano aiutato tanto, era andata bene ed ero molto contento. Da napoletano Fabio Cannavato, perché è un grande campione, ho avuto la fortuna di giocare con lui ed è stato bello. Un ricordo bellissimo, perché le Olimpiadi è una bellissima competizione diversa da europei, mondiali, ti ritrovi con tantissimi atleti di varie discipline ed è stato molto bello. Segnare un gol in azzurro è sempre emozionante. Ne avevano fatti tre, ma non con la nazionale maggiore, magari sarà ancora più emozionante. Eravamo in Svizzera contro la Svizzera con Marcello Lippi. È un ricordo bellissimo e tra l'altro era andato anche vicino al gol con un colpo di testa. Un grande saluto a tutti i tifosi della nazionale. Forza Italia! È un ricordo che è stato bello. Ancora Oh